una santa serata a tutti ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di catechesi ad amo e la vita nella divina volontà che è giunta la ventiduesima puntata e che questa sera ci porterà ad un nuovo viaggio molto bello ecco nella condizione del nostro progenitore dei nostri progenitori vedendo in particolare come dio ci abbia intenzione ecco lo ascolteremo dal brano che proclameremo e mediteremo insieme di effettuare un ripristino dei beni perduti ecco noi che viviamo un po dopo ecco luisa piccarreta oggi siamo molto familiarizzati con il termine ripristino ecco sappiamo che quando succede qualche problema ai sistemi operativi che se impazziscono i computer ecco dobbiamo fare i ripristini computer o gli smartphone o i cellulari o gli iphone insomma quindi ripristino ecco nostro signore c'è intenzione di fare un bel ripristino come vedremo questa sera e vedremo però anche che per fare questo benedetto ripristino ci vorrà qualcosa anche da parte da parte del dell'uomo ecco io direi di passare ricordando ecco le cose molto belle della puntata precedente soprattutto un punto fondamentale che penso che sia uno dei tratti caratteristici più profondi e discriminanti della vita nella divina volontà ricorderemo come abbiamo ascoltato e sinceramente con commozione in parte lo confesso insomma una cosa molto bella che dio gioisce nel fare felice l'uomo da lui sommamente amato e la profondità e la realtà dell'amore di dio a mio modestissimo avviso vengono molto approfondite dagli scritti di luisa cioè ne tutti sanno che dio ama l'uomo e che dio vuole la felicità dell'uomo insomma lo sentiamo stra predicare in tutte le lingue possibili immaginabili ma come dire la chiarezza dei termini la profondità delle espressioni io le ho riscontrate in questi scritti e da cui ho come dire tratto un'ulteriore decisa ecco conferma della primaria volontà di dio che è appunto quella appunto di far felice l'uomo di renderlo realmente felice noi dobbiamo fare molta attenzione ad una certa come dire trasmissione della fede un pochino falsata e che è tra l'altro quella con cui il diavolo tiene molti lontani dalla fede cioè che cosa pensa la gente generalmente della vita cristiana la pensa come una cosa pesante, brutta, noiosa, piena di leggi, piena di precetti dove bisogna soffrire, dove bisogna privarsi, dove bisogna sacrificarsi attenzione non è che queste cose non ci siano nella vita cristiana intendiamoci bene cioè dire che Dio vuol fare felice l'uomo non significa dire ti tolgo tutte le croci questo non sono lo scritto da nessuna parte non meno che mai negli scritti di Luisa però Gesù lo spiega benissimo Gesù spiega negli scritti che in croce nella sua croce lui era comunque felice di quella felicità divina che ti viene proprio dal fatto che in croce tu stai facendo la volontà di Dio adesso sentiremo delle cose molto molto belle questa sera per esempio sul non essere forzati quando noi vediamo una persona che agisce sotto sforzo guardate io veramente più tempo passa e più di questa cosa per l'esperienza acquisita nel ministero la vedo tutti i giorni davanti agli occhi cioè anche io ritengo ma questo penso che forse io forse sono il più stupido della tante sacerdote insomma nella chiesa cattolica probabilmente i miei confratelli lo sanno da sempre molto bene e molto meglio di me ma il compito fondamentale di un ministro di Dio è cercare di svegliare le coscienze nel senso di porre le coscienze davanti al Signore perché? perché le scelte che fanno le decisioni che prendono le maturino loro liberamente non perché te l'ha detto il prete non perché te l'ha detto è il confessore oppure quello che ti sta simpatico devi arrivarci devi interiorizzarlo devi maturarlo deve essere una scelta tua libera volontaria pensata ponderata decisa e gioiosa altrimenti la vita cristiana è bella per questo San Giacomo dice chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta guardate come la chiama io per tanti anni ho pensato a questa espressione la legge della libertà e le resta a vedere non come uno smemorato ma come uno che la mette in pratica questi troverà la sua felicità nel praticarla cito a memoria questo passaggio la legge della libertà e che significa? quando uno sente parlare di legge di per sé avverte subito una limitazione alla libertà perché la legge mi dice fai questo o mi proibisce di fare quest'altro quindi la mia libertà a 360 gradi me ne limita anche a amputazione perché mi dice questo no oppure questo sì ecco esiste una legge di Dio ma perché San Giacomo chiama la legge del Nuovo Testamento la legge della libertà perché tu la devi abbracciare interiorizzandola accogliare abbracciandola vivendola come una tua scelta volontaria Dio Dio non ha al suo seguito schiavi forzati non ce li ha non li vuole d'accordo è talmente tanto come dire recalcitrante tanto restio a avere schiavi che per non averli rischia che vanno all'inferno capito perché non ti forza lo sentiremo questa sera sto a fare un commento anticipato cioè questo è un punto fondamentalissimo altri aspetti fondamentali che si scoprono in questi scritti per esempio dentro l'orizzonte dell'amore per esempio ma come dire è un rispetto profondissimo del prossimo della sua individualità della sua originalità del suo essere un unicum proprio il rispetto in senso etimologico del termine cioè il respicere cioè il guardarlo con attenzione una persona che entra in questo mondo fa un'impennata fa perché non si azzarderà più ma nemmeno minimamente si ha capito che cos'è questa vita a maltrattare il prossimo a giudicare il prossimo a criticare il prossimo a maledire il prossimo a sparlare del prossimo esiste d'accordo perché? perché è entrato nell'ottica autentica nell'orizzonte dell'amore che è la quintessenza della vita di Dio ok è anche il tratto caratteristico di uno cristiano abbiamo sentito i fatti di di drammatiche attualità ieri sera gli estremisti islamici che vanno a sparare al grido di Allah Akbar noi questa cosa cioè qualunque cristiano questa cosa qui non la può fare capito? perché? perché il nostro cioè che Dio è trino è l'attestato del fatto che lui è amore quindi un comportamento così direttamente contrario all'amore non lo può fare non lo puoi fare né mai e poi mai sapete il principio degli estremisti jairisti qual è loro pensano loro sono convinti che è così capite? cioè loro pensano siccome la vera religione è l'islam tu la devi abbracciare o l'abbracci perché te converti oppure io te la faccio abbracciare per forza non c'è niente di più non c'è niente di più lontano dalla nostra posizione dove si diventa cristiani liberamente per conversione per fede capito? non si potrebbe mai fare una cosa di questo genere quindi come vedremo io ritengo cioè quando uno va a vedere per esempio cioè la gioia infinita la felicità pienissima che Dio aveva dato ad Adamo e che sarebbe stata per tutti e che si è interrotta solo a causa di questo blackout causato dalla volontà umana con quale idea di Dio ne esci fuori dopo aver meditato queste cose cioè un muro Luisa si arrabbia che sto a chiacchierare troppo prima del tempo che sto a togliere però non volevo io fare queste cose cioè molta gente ha un'idea di Dio anche cattolici spallata falsa d'accordo falsa se io non posso in nome di Dio andare a sparare a una persona e ammazzarlo ma io non posso in nome di Dio neanche ammazzarlo con la lingua come tante volte ci ricorda il sommo pontefice regnante c'è il terrorismo delle pistole c'è il terrorismo della lingua cioè non c'è niente di più distante da chi vive in questo mondo sono proprio due orizzonti opposti inconciliabili ma chi usa il terrorismo della lingua non lo conosce il Dio di Gesù Cristo anche se pensa di difenderlo questo se lo deve mettere bene in testa conosce un altro Dio non so se mi spiego bisogna bisogna capire bene bisogna andare a fondo di tanti punti e di tanti concetti trarne le ultime conseguenze che a mio avviso sono veramente cioè non c'è niente di nuovo per certi aspetti perché queste sono tutte tante cose che già si sanno che Dio amore si sa però un'immagine bella di questa cosa viva profonda e con tutta quanto una serie di conseguenzialità quasi immediate io l'ho trovata qui e guardate che non ho lette tante insomma sono proprio fatto un'overdose insomma di scritti tra dottrine e vite dei santi e l'ho fatto non perché semplicemente perché volevo trovare delle fonti autorevoli che mi insegnassero a conoscere un po' meglio quel signore che a un certo punto ho incontrato e che ho desiderato tanto servire e che mi sentivo incapace di farlo volevo che mi insegnasse che trovasse qualcuno che mi insegnasse come si fa proprio potrebbe ho detto candidamente d'accordo e sto tuttora a ricerca e ogni mattina ogni sacrosanto giorno che io mi vado a legge non leggo solo questo leggo anche ovviamente altre cose però questo certamente è un punto di riferimento che è diventato prioritario nella mia vita e io rimango sempre con due occhi così cioè ne esco edificato ne esco arricchito continuamente ecco perché volentieri insomma io anche questa cosa che faccio qui su facebook lo faccio perché alcune persone mi hanno chiesto vai avanti insomma quando la di buon consiglio ha chiuso spazio giovane c'è stato quel ciclo di catechesi una montagna di persone però adesso che facciamo ci piacerebbe continuare a sentire la catechia di una volontà c'è qualcuno può essere tanto per me è un piacere leggere e commentare ad alta voce uno scritto insomma quindi se viene fatto in comune amen insomma niente niente di che insomma niente di di controindicato detto questo che ho già veramente esagerato restiamo ancora su questo spettacolare 24esimo volume ma qua tanto spettacolari sono tutti quanti io che sto facendo la lettura continua dei volumi e finisce diciamo mappa questo quanto è stato bello ma abbiamo toccato il top quello che viene dopo è meglio ancora insomma quindi c'è sempre questo c'è sempre questo continuo incedere e crescere allora oggi abbiamo 24esimo volume 12 giugno 1928 dice così anche questo è un testo abbastanza lungo per cui ci limiteremo a leggere e commentare questo testo figlia mia quando fai il tuo giro nella mia volontà per rintracciare tutti i tuoi atti per corteggiarli amarli per farli uno con i tuoi aggiungi nell'eden io mi sento ripetere le gioie le feste la felicità che la nostra divinità provò nella creazione o come il vedere te scorrere nel sole nel vento nel mare nel cielo ci ricorda al vivo i voli rapidi della prima creatura uscita dalle nostre mani creatrici perché stando lui nell'unità del nostro volere di tutti gli atti nostri fatti nella creazione per amore suo ne faceva uno solo e nel suo unico atto ci portava come in trionfo tutti gli atti nostri perciò Adamo ci portava tutte le gioie di tutte le cose che noi avevamo come rotolato ordinato e armonizzato in tutto l'universo ed oh come ci sentivamo felici nel vederlo così ricco forte potente di una bellezza incantevole venire innanzi a noi dotato di tutte le opere nostre e ce le portava per felicitarci glorificarci e felicitarsi lui insieme con noi onde nel vedere te riprendere i suoi voli e girare ovunque vediamo come è bella la vita della creatura nella nostra volontà pare che voglia entrare in tutti gli atti nostri e tutto voglia prendere ma per fare che? per darci tutto e per felicitarci e noi in cambio le diamo tutto le diciamo sono cose due per te le abbiamo create e fatte uscire da noi onde nel vedere ciò sentiamo il desiderio di ripristinare la creazione nell'uomo e di dare il regno nella nostra volontà faccio una prima pausa perché il brano di questa sera è divisibile in qualche singola distinta sezione questa è la prima e facciamo diciamo una prima sosta come dire catechettico meditativa chiamiamo una pochino così no? allora contesto i giri fatti da Luisa per rintracciare gli atti della divina volontà in particolare dice Gesù quelli nell'Eden quando giungi nell'Eden e qui c'è qualcosa nel più pellegrinaggio dell'anima nell'operato della divina volontà parte appunto della creazione del sole e delle stelle a un certo punto arriva proprio all'Eden quindi chi non sapesse dove mettersi le mani basta che legge questi primi capitoli del più pellegrinaggio e capisce un attimo che cosa è no? che cosa succede? allora qui abbiamo un concetto attenzione ne ho parlato l'abbiamo visto credo in qualche meditazione sì nella meditazione mariana del 10 di dicembre nell'occasione della festa di di Loreto quindi chi volesse andare ci dovrebbe essere già il video su youtube sicuramente c'è anche il podcast registrato lì Gesù ha spiegato molto bene che cosa significa l'atto unico perché anche qui ne parla abbiamo appena ascoltato stando lui nell'unità del nostro volere di tutti gli atti nostri fatti nella creazione per amore Gesù ne faceva uno solo e nel suo unico atto ci portava come trionfo tutti gli atti nostri allora lì Gesù spiegava è un miracolo insomma che Luisa cioè la esternata di queste cose una persona con la prima elementare che è proprio dell'essere di Dio cioè la caratteristica della divinità che è trascendente per noi noi non potremo mai comprenderla d'accordo perché se la comprendessimo saremmo come lui è che in Dio non c'è successione di atti non esiste a noi si mostrano in indeterminata infinita successione d'accordo a noi però nel tempo ma in Dio non c'è uno solo è l'atto che Dio compie come assolutamente unica e semplice è la sua essenza e attenzione tutti gli atti di Dio sia quelli della Trinità sia quelli soprattutto fuori della Trinità che hanno avuto una sequenza temporale lunghissima d'accordo cioè pensate a tutte le cose che stanno svolgendo adesso in ogni singolo secondo capite pensate cosa significa noi ci dobbiamo pensare ogni istanto è chiaro che è difficile pensarlo perché è trascendente allora cioè la mia vita fino a oggi è stata fatta di quanti secondi se volete pazientemente con la calcolatrice vorremmo a calcolare perché tanto fa 47 anni e quanti mesi sono passati li trasformi in giorni li trasformi in ore li trasformi in minuti o li trasformi in secondi verrà un numero molto grande no? tutti questi secondi della mia esistenza sono presenti in Dio e lo sono da sempre anche da prima che io venissi sul pianeta Terra in un atto unico attenzione che questa stessa cosa vale per tutti gli esseri umani presenti passati e futuri e vale per tutte le componenti infinitesimane dell'universo come non intendo questo è è per questo che quando si entra cioè la vita nella divina volontà ci rende partecipi di questo però immaginiamo che significa la potenza l'immensità in uno con un atto solo Dio fa tutto 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 io enfatizzo un pochettino ma queste sono cose che stanno infinitamente al di là della nostra capacità di comprensione vivere nella divina volontà vuol dire vivere nell'unità di questo atto unico quindi che cosa significa vuol dire andare a prendere sono espressioni queste qui no? tutte le manifestazioni positive di questo atto unico che sono anzitutto nella creazione eccetera eccetera farle nostre d'accordo e nella divina volontà riportarle alla sua origine perché? perché Dio sia contento che noi le abbiamo riconosciute ne abbiamo godute e gliele abbiamo riportate lui contento della nostra felicità e noi contenti di farli felici riportandogli le tutte perché Dio è felice che ci vede felici di riportargli tutte le felicità che lui ci ha donato questo è se uno rilegge questi primi paragrafi e legge i termini quante volte si sente dire la parola bello queste sono cose belle cioè vivere con Dio è una cosa bella è una cosa bellissima anzi è una cosa più bella che esista al mondo e che sia una cosa bellissima si vede d'accordo la vivi chi ti incontra lo deve vedere che tu che stare che vivere in comunione con Dio è la cosa più bella che esista al mondo lo deve vedere ma non è che lo deve vedere innanzitutto ti mette adesso mi devo sforzare dunque adesso devo fare per forza il piacione perché così tutti vedono che sono contento e quindi capiscono che la vita non è così perché se tu ci vivi veramente tu contento ci sei e questa cosa la trasmetti punto e basta non ti devi sforzare trasmetterlo lo vivi cioè tiri fuori quello che c'hai uno non fa invece la faccia che c'ho non faccio nessuna fatica questa è la faccia mia d'accordo se bello brutta che sia c'ho sta faccia non posso non posso fare niente quindi se tu c'hai la vita divina dentro di te quella cosa si vede tu puoi pure fare attenzione per umiltà come faceva la madonna di cercare di 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 per certi aspetti di come dire di di nasconderla il più possibile ma ti tradisci è impossibile che non si veda impossibile impossibile questo passaggio non ci sentivamo felici nel vederlo così ricco forte potente di una bellezza incantevole questo Dio vuole vedere capito viene innanzi a noi dotato di tutte le opere nostre e ce le portava per fare cosa per felicitarci e glorificarci qui si parla al nome della santissima trinità felicitarci e glorificarci un'altra grande scoperta che si fa nel mondo della vita è che tu puoi fare felice il padre eterno io posso fare felice il padre eterno ma che sto a dire ma il padre eterno è felice in se stesso che sta aspettando a me per essere felice eh insomma sì e no è felice in se stesso sì 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 ma lui si aspetta la felicità di vedere te felice perché per questo ti ha creato non c'è nessun'altra motivazione per cui Dio ha creato e questo l'abbiamo visto già visto altre volte l'uomo è un criminale perché anziché farsi vedere da Dio felice ricevendolo da lui il principio della felicità proietta dinanzi allo schermo che è un atto unico tra l'altro della Santissima Trinità continuamente film dell'orrore un sacerdote che sta che parla con le persone che ascolta cioè sti film li vede in continuazione li sente in continuazione quanto male che dilaga in giro d'accordo quante cose brutte proprio brutte altro che belle quindi queste cose sono bellissime a mio modestissimo avviso sono bellissime cioè dobbiamo pensarci dobbiamo ripensarci dobbiamo ripensarci dobbiamo ripensarci dobbiamo ripensarci perché io quando penso a Dio io devo pensare all'alleato della mia felicità devo pensare a colui che mi vuole dare una vita meravigliosa bellissima piena di gioia piena di vita piena di felicità questo io devo essere certissimo d'accordo senza nessunissimo dubbio come la vuole dare a me la vuole dare a tutti d'accordo a tutti quanti questo determina proprio uno stile differente di vita cioè la preoccupazione l'occupazione noi non abbiamo preoccupazioni qual è? è di cercare di spandere 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 cose spandere bene spandere amore spandere cose positive spandere bellezza questo non abbiamo tempo da perdere a fare altre cose brutte capito asseminare odio asseminare vendette asseminare rancore asseminare zizzane asseminare volgarità oscenità non ce ne apporta niente queste cose queste qua le lasciamo fare a chi non conosce chi è Dio e quanto è bello Dio e quanto ti vuole fare contento Dio le lasciamo agli altri noi portiamo quest'altra cosa io sono convintissimo mi avevo sempre più convincendo l'ho detto in tante catechesi noi abbiamo ricevuto storicamente noi cristiani delle provocazioni grosse quanto una casa cattive d'accordissimo cattive Friedrich Nietzsche io purtroppo quando ero lo studiai abbastanza diceva io crederò al Vangelo che non ci credo quando vedrò i cristiani che dicono che Dio si è fatto uomo Dio si è fatto uomo e che è morto in quel modo in croce per te io li devo vedere col sorriso a 32 denti li devo vedere che sprizzano le gioie se no io non ci credo capito e li prendeva in gira i cristiani diceva Dio è morto Nietzsche voi l'avete ucciso a noi ce lo diceva sono cose brutte però però accadono tutti quanti in un bel esame di coscienza capite questi sono vomiti di Satana d'accordo però Satana è l'accusatore come ci ricorda spesso il pontefice ma quando uno accusa 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 a volte qualche capito qualche appiglio concreto su cui l'accusa si basa esiste siamo sicuri che noi sprizziamo gioia da tutti ma non è che sprizziamo gioia perché siamo idioti scusatemi o scemi d'accordo uno ride 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 e che te ridi che non c'è niente da ridere ma sprizzi la gioia di una vita in pienezza che tu hai dentro e che la trasmetti e che è intrisa di questa profonda dimensione di amore vissuto aspirato perché questo è Dio la condizione di Adamo prima del peccato originale ne è l'attestazione assoluta d'accordo tutti i film dell'orrore che vediamo in continuazione cioè che un paro prete si sente purtroppo quasi tutti i giorni io dico cioè te prende proprio un coccolone e quando io adesso ascolto tutti i film dell'orrore dico guarda guarda la volontà umana guarda la volontà umana guarda la volontà umana guarda la volontà umana guarda quanto male cioè lo sento io e mi sento male ma noi ci pensiamo mai a come si sente il padre eterno per tutte queste cose quando lui potrebbe dare una vita meravigliosa a tutti purché che l'uomo lo volesse e questa cosa bisogna pensare questa cosa qui conclude Gesù dicendo vogliamo ripristinare la creazione dell'uomo proseguo la lettura secondo step onde con enfasi più tenera soggiunta figlia mia potenza non mi manca volontà neppure quindi io devo rialzare l'uomo decaduto e ripristinarlo ripristinarlo perché l'umano volere sfasciò l'opera delle nostre mani creatrici questo è un passaggio fondamentale Gesù vuole ripristinare dice non mi manca la potenza non mi manca la volontà di fare cioè questa è una cosa che lui ha deciso se Dio decide una cosa quella cosa è non ci stanno santi quella cosa se Dio la decide una cosa quella cosa è se ha deciso di ripristinare ha deciso di ripristinare allora quindi commosso e dolente per il povero uomo ha fatto silenzio ed io pensavo tra me sentite che bello quello che dice Luisa è la risposta che gli da Gesù ma come mai si può ritornare allo stato primiero della creazione dal momento che l'umanità che l'umana volontà ha fatto cadere l'uomo in un abisso di miserie quasi deformandolo da come era stato creato obiezione giustissima dice signore mio ma come facciamo a tornare come stavamo ma non hai visto come stiamo ridotti ma guarda come stiamo ridotti ma come si fa come si fa allora Gesù risponde e il mio dolce Gesù ha soggiunto figlia mia la mia volontà tutto può questo mettiamocelo bene in testa la divina volontà è onnipotente vabbè finisco la lettura poi poi cominciamo un'ampia riflessione su questa risposta di Gesù la mia volontà tutto può e come dal nulla fece l'uomo così può ritrarre dalle sue miserie il nuovo uomo e senza cambiare sistema da come lo creammo lasciandogli il suo libero arbitrio useremo un'altra industria amorosa la luce della nostra volontà vibrerà più forte i suoi raggi fulgidissimi si avvicinerà in modo da guardare in faccia la volontà umana la quale riceverà l'incanto di una luce penetrante che abbagliandola dolcemente la tirerà a sé e tirata da una luce così fulgida e di bellezza rara avrà desiderio di vedere che cosa c'è di bello in quella luce con guardare subirà l'incanto si sentirà felice ed amerà non forzata ma spontaneamente di viverne la nostra volontà qui ci potremmo fare l'alba quanto meno del giorno dopo di domani mattina su questo io chiaramente sarò veloce allora l'obiezione numero uno la mia volontà può tutto punto la mia volontà può tutto non ha fatto forse dal nulla l'uomo o qualcuno ancora pensa che l'uomo viene dagli scimmioni faccio sempre la battuta che faccio ai ragazzini del catechismo e mi hanno detto ma la professore mi ha detto noi veniamo dalle scimmie io dico sempre tu vieni dalle scimmie io no tu si forse io no d'accordo per quanto mi riguarda ecco quindi se Dio ha creato dal nulla non può forse ritrarre dalle misere il nuovo uomo io penso che per esempio un'altra cosa che si impara negli scritti è che la divina volontà è onnipotente tutto lo marasma che sta facendo in giro adesso il diavolo che è scatenato e lo sappiamo il Papa ci ha fatto fare la preghiera a San Michele d'Arcangelo per tutto il mese dell'ottobre con il marasma che sta succedendo d'accordo ma attenzione però noi pensiamo forse che tutto il marasma che sta succedere cioè Dio lo guarda e dice aspettiamo che finisca tutto non ci posso fare niente pensiamo che sia così forse guardate che molta gente io sono convinto se gli faccio questa domanda questa è ovviamente una domanda retorica nessuno può dire penso che sia così perché se no in Dio non ci credi ma non basta che tu non lo pensi non lo devi pensare da un punto di vista pratico perché chi si agita chi si preoccupa chi si affanna chi si impaurisce questa fede non c'era nemmeno chi pensa di mettersi a fare fuoco e fiamme per risolvere i problemi del mondo intero e della chiesa ma che fai cioè le sorti dell'uomo la vita stessa della chiesa lo sappiamo benissimo Dio non ne approva il male ne incoraggia il male ne lo sottoscrive ma lo tollera lo permette e sappiamo che non è che lo tollera lo permette perché non ci può fare niente ma lo tollera e lo permette per i suoi arcani e oscuri disegni che hanno questo minimo come un denominatore che dal male lui nella sua onnipotenza sa trarre sempre un bene maggiore io ho già detto altre volte anche tante criticità tante situazioni difficili o anche scandalose che stanno emergendo dentro la nostra cara famiglia amata che è la chiesa sono io non sono convintissimo da Dio permesse in vista di una sua rinascita di cui già si vede l'alba io già la vedo l'alba di questa rinascita io la vedo benissimo la vedo di una chiesa che sarà splendentissima bellissima cioè da tante situazioni non uscirà fuori rinata purificata abbellita e se questo da passare come tra l'altro la Madonna ha rivelato il famoso terzo segreto di Fatima ovviamente la versione ufficiale perché quello è il terzo segreto di Fatima cioè da tutta quanto quella via crucis interminabile esce fuori il trionfo del cuore immacolato di Maria quindi non è che dici sai Dio dorme d'accordo o Dio non ci può fare niente no Dio lascia fare però nella sua divina volontà onnipotente convogliando anche tutto sto marasma di male verso il compimento dei suoi disegni questa è la fede divina e cattolica il diavolo se non uno diventa manichichi da troppa importanza al diavolo guardate che diventa da un punto di vista pratico manicheo sapete chi erano i manichei i manichei erano quelli che dicevano che esitte il bene e il male sono due principi uguali opposti che stanno sullo stesso livello ma il diavolo non sta sullo stesso livello di Dio il diavolo è una creatura il diavolo non è che si può mettere a fronteggiare contro il padre eterno il diavolo agisce sempre per divina permissione sempre e se Dio lo ferma il diavolo si ferma ma lo ferma con un atto della sua volontà istantanea se lo vuole fermare se non lo vuole fermare non è che Dio non lo può fermare Dio lo può fermare ma non lo vuole fermare se sa che fermarlo non è bene tu non lo capisci lo capisci il padre eterno ste cose dobbiamo mettere bene in testa ragazzi la mia volontà è onnipotente può tutto poteva creare l'uomo lo posso ripristinare tu non ti preoccupare ma sto marasma che c'è tu non ti preoccupare ci penso io queste non sono operazioni nostre sono operazioni divine ma non sono e lo farò senza cambiare sistema come ci ha creato Dio liberi no guardate quello che dicevo prima il rispetto della libertà senza cambiare sistema da come lo creiamo lasciandogli il suo libero arbitro quindi come verrà il regno della divina volontà facendo innamorare gli uomini di questa vita questo è quello che dice Gesù non è che io ti farò innamorare e spiega passo passo tutti quanti i passaggi useremo un'altra industria amorosa e qui comincia bellissimo industria amorosa quindi Dio non ti prende per la collottola e ti pia per il bavaro e ti sbatacchi devi dire la mia volontà tu devi essere felice quindi devi fare così se no non fa così è un'industria amorosa vedete l'amore come proprio quintessenza dell'essere dell'operare di Dio Dio agisce così non fa diversamente non te pia per la collottola dicono a Roma ecco l'industria amorosa primo la luce della nostra volontà vibrerà più forte i suoi raggi più fulgidissimi ha già vibrato abbiamo i 36 volumi altro che vibrazione si avvicinerà in modo di guardare in faccia alla volontà umana due la quale riceverà l'incanto di una luce penetrante è impossibile è impossibile che chi si accosta con cuore scevro di pregiudizie di preconcetti a certe cose a mio avviso è impossibile che non ne sente il fascino impossibile impossibile riceverà l'incanto di una luce penetrante terzo passaggio che abbagliandola la tirerà dolcemente a sé abbagliandola dolcemente la tirerà a sé guardate i termini no? attirarla dolcemente vedete cosa dice Papa Francesco il cristianesimo come si trasmette? per attrazione non e qui tutte le critiche di quelli che non capiscono niente che hanno fatto non per proseditismo ma non è che ah il proseditismo allora non bisogna evangelizzare ma che dici? il proseditismo indica come dire che tu pidi una persona per la collotta e te lo tiri quasi dietro capito? quasi costringendo ormai è brutta questa cosa tu non costringi nessuno tu una persona la devi fare innamorare di Cristo come lui ti vuol fare innamorare della sua divina volontà non te la vuole non te ne importa niente cambia canale lascia perde capito? non c'è problema Dio non vuole che si avvicini ci si avvicini a lui se non per forza d'amore abbagliandola dolcemente la tirerà a sé ancora attirata da una luce così fulgida e di bellezza rara ecco perché bisogna leggere bisogna contemplare cioè io ho una bellezza di questo genere io so io sono un vecino del piacente io non l'ho trovata da nessuna parte non l'ho mai vista e allora quando vedi una cosa così bella che succede? avrà desiderio di vedere cosa c'è di bella in quella luce approfondisce io non mi dimenticherò mai i primissimi giorni che Lessi l'ho raccontato centomilaire di volte era un'esperienza della mia vita io la prima cosa che Lessi sono pure i primi capitoli della legge della mia volontà ma io tutto mi aspettavo di trovare nemmeno quello che mi sono trovato inanzi sono rimasto con due occhi così dico ma stiamo su scherzi ma che dice qua? ma stiamo scherzando stiamo ma stiamo su scherzi a parte veramente e sta roba qui io 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 devo capire ma io devo approfondire subito subito cioè questo questo processo che qui racconta io l'ho vissuto io l'ho 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 vissuto quindi come ha fatto così nostro nostro io l'ho vissuto col guardare subirà l'incanto quindi una volta che tu dici ammappa fammi approfondire approfondisci subirà l'incanto cioè questa da incanto deriva incantevole deriva incantesimo cioè io scherzando tante volte dico questo si chiama il libro di cielo io lo chiamo il libro delle favole cioè perché le cose che si leggono qui uno dice ma ma dico ma stiamo scherzando cioè le favole so favole no ma non so favole però subisce l'incanto dice ma che stiamo scherzando ma veramente ma si può campare così si sentirà felice io dico sempre stai a vivere nella divina volontà ma si ti senti felice ti senti felice su questa su questa domanda cioè le balle non ce le possiamo raccontare capito perché chiunque sente questa domanda si fa questa domanda io sono felice non è che c'è dunque devo cominciare allora dunque conciappa a ponderare questa cosa va bene quest'altra cosa non va bene questo problema c'è questo non c'è dunque forse allora sono felice no un pochino cioè se tu sei felice rispondi subito sì benissimo la cambieresti la vita che c'è no sei contento di quello che stai a vivere sì di tutto sì del bene come del male sì e ancora amerà non forzata ma spontaneamente come lo dice all'inizio della trasmissione di vivere nella nostra volontà amerà di viverci e spontaneamente senza che nessuno di forza non ci sono forzature di nessun tipo non ti piace non ti credi non ti interessa chiudi il libro e il campo come sempre campato cioè sta tranquillo sta capito sereno disteso capito disteso non c'è problema quindi come lo ripristina dice chi lo sa quale grande miracolo fa la nostro signore non fa nessun miracolo d'accordo rifà quello che ha fatto nel rispetto del libero arbitrio si fa conoscere dall'uomo lo fa innamorare e lo attira liberamente spontaneamente chiaramente chi ha questo gioco ci sta chi questi step progressivi e successivi piano piano assecondando l'azione della grazia li compie chi no no terzo ed ultima parte di questo scritto di oggi anche qui tanta roba figlia mia il vero sposalizio con l'umanità fu non la creazione nulla mancò né all'anima né al corpo tutto fu fatto con sontuosità regale alla natura umana fu preparato un palazzo grandissimo pensate un po' qual è tutto l'universo che nessun re né imperatore può avere uno simile ora io ho visto un documentario un pochino di tempo fa tanto per capire l'universo anche per renderci un pochino conto delle opere del padre eterno si parlava della via lattea gli scienziati hanno calcolato che per uscire dalla via lattea che è la nostra galassia e di galassie a quanto dicono gli scienziati di oggi ce ne sono un'immensità nell'universo per uscire dalla nostra galassia con una nave che viaggiasse alla velocità della luce non vorrei dire un numero sbagliato ma era un numero comunque impressionante io ricordo 23 milioni di anni cioè sono stati tutti i progressi di questo mondo cioè voi sapete che un missile viaggia a 70.000 km l'ora un razzo una navicella spaziale cioè che è già un'enormità un aereo viaggia a 1000 km l'ora ok la velocità della luce sono 300.000 km al secondo capito cioè al secondo 300 va a far conto 300.000 km al secondo quanto sarebbe in un'ora devi moltimilicare per 60 e per 60 capito vede quanti milioni di km al secondo miliardi di km al secondo è impossibile ma se anche la facessi dici dai faccio un'astronave che viaggia velocità della luce tempo un anno sto fuori dalla galassia te lo scordi la notte te lo scordi quindi non possiamo uscire da qua cioè dove andare sulla luna ma sapete che significa andare sulla luna nei confronti dell'universo significa che io sono uscito dalla canonica e sono arrivato in chiesa ho fatto 20 metri questo significa in tutto l'universo che l'uomo andava sulla luna capito andava sulla luna e dove sei nato e dove sei nato per te dove sei nato capito noi abbiamo come abitazione l'universo qui siamo dei gran signori no è abbastanza grossa la villa di Nerone che c'ha Nettuno era la Domus Aure che si era fatta che abbracciò mezza Roma e che la spelonca infestata dai topi che è in confronto a tutto quanto l'universo che è alla natura umana fu preparato un palazzo grandissimo quale tutto l'universo Gesù continua che nessun re né imperatore può averne uno simile chi ce l'ha un cielo stellato è la sua volta un sole c'è pure l'illuminazione dentro una casa un sole che non si doveva mai estinguere come luce a meni giardini dove la coppia quale sarà la coppia madame ed eva errore dove la coppia Dio e l'uomo doveva passeggiare ricrearsi e mantenere la festa continua non mai interrotta del nostro sposa lizio vesti non tessute di materia ma formate di purissima luce dalla nostra potenza quale si conveniva a persone legali voi sapete gli scritti di Guisa noi pensiamo che a Davideva erano mudi e poi si sono dovuti coprire no no avevano delle vesti di luce fatte da lui padre eterno molto più sontuose e lussuose delle più belle vesti legali e imperiali hai visto la sacra scrittura il profeta Osea quando parla delle nozze tra Dio e l'uomo il cantico dei cantici che alcuni scrittori ecclesiastici un po' verbenissi si erano strappati le vesti che è questo qua questo è un libro erotico non lo possiamo mettere nel canone cioè lo sposalizio tra Dio e l'uomo e che cos'è il rapporto sponso scusate ma due sposi che fanno si amano o no due sposi che fanno si amano che fanno si amano ecco perché qual è che vuole Dio vuole amarti che vuole datevole amore basta finito e si era come dire fatto un uomo bellissimo amabile stupendo perché dotato tra l'altro di cosa lo sappiamo della stessa divina volontà tutto era beltà nell'uomo anima e corpo perché colui che preparava lo sposalizio e lo formava era di una bellezza inarrivabile ancora la bellezza Dio è il sommamente bello sì che dalla soltuosità esterna delle tante bellezze incantevoli che ci sono in tutta la creazione può immaginare i mari interni di santità di bellezza di luce di scienza che possedeva l'interno dell'uomo creati bellissimi abbiamo da poco festeggiato l'immacolata concezione la Madonna è bellissima cioè non solo che è bellissima stanno i canti bella tu sei quazzone bianca più della luna pure totapulcra es maria niente d'accordo niente non esiste mente umana forse manco quelli che l'hanno vista che possa comprendere la bellezza incantevole di Maria Santissima perché lei ha conservato tutte queste cose il ripristino proprio che non è ripristino è proprio un rifarex novo Dio l'ha proprio fatto perfettissimo in una creatura perché in una creatura fermi tutti ma avete sfasciato tutto adesso lo sentirete ma avete fatto voi del film dell'orrore si poi arriverà il momento in cui ripristino quello che c'era stato ma ripristino capite il ripristino c'è un ripristino ma c'è un ripristino perché è stato un guasto ma me ne fai avete una che non è stata guastata una è una ma voglio vedere è il nostro signore questo è il nostro signore questo se l'è è un regalo che si è fatto da solo d'accordo creata per lui la madonna tutta per lui ma proprio perché è tutta per lui è tutta per tutti perché l'amore è diffusivo tutti gli atti dell'uomo vado verso la conclusione che abbiamo quasi il tempo a disposizione interni ed esterni erano tasti musicali che formavano le più belle musiche dolci melodiosi armoniose che mantenevano l'allegria dello sposalizio e ogni atto in più che si disponeva a fare era una nuova sonatina che preparava per chiamare lo sposo a ricrearsi con lui Dio che si ricrea con chi? con l'uomo la mia volontà divina che dominava l'umanità gli portava l'atto continuato e la somiglianza di colui che lo aveva creato e sposato perché l'atto unico adesso non approfondisco questa cosa proprio stasera prima di durante la lettura personale che faccio la sera Gesù spiegava questo atto continuato perché? perché in Dio l'atto è unico quando però la divina volontà si trasmette in me che cosa succede? io sono io 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 nel tempo nella successione continua di secondi momenti istanti quindi nella creatura l'atto unico della divina volontà diventa atto continuato cioè tu stai ininterrottamente vivendo in questo atto unico quindi con una successione continua nel tempo cioè quello che è fuori del tempo cioè in Dio è una cosa semplicemente unica quando si comunica a me ora che vivo nel tempo diventa atto continuato ecco perché si dice che si vive nella divina volontà e quando c'è il possesso di questo dono il respiro il battito anche quando io gesticolo parlando sono tutti atti divini in continuazione cioè da Dio partono una montagna di dardi di frecce di saette continue dove la sua volontà gli ritorna continuamente arricchita di tutti quanti gli atti che in lei la creatura sta compiendo chiudiamo l'ultima pericope ma in tanta festa l'uomo guasta feste ruppe l'anello più forte in cui stava tutta la validità e per cui era stato in vigore il nostro sposalizio che fece si sottrasse alla nostra volontà e lo sposalizio in virtù di ciò andò sciolto gli sgraziati che siamo l'uomo è l'inventore del divorzio e con chi è andato a divorziare? andato a divorziare col padre eterno proprio completamente fuori le testa e furono perdure tutti i diritti perché quando c'è il divorzio qui parlo alla conoscenza della legge civile sono finiti i diritti sono finiti i doveri e se fai il divorzio con il padre eterno è la stessa cosa hai perso tutti i diritti resta solo il ricordo dello sposalizio matrimonio che c'è stato ma la sostanza la vita e gli effetti non esistevano più solo e questa è la bella notizia con cui ci lasciamo questa sera Dio ha deciso il ripristino quindi tutti coloro che sono disposti disponibili a farsi ripristinare che vuol dire cominciare a a entrare in questo processo che abbiamo prima come dire piano piano sviscerato quindi nel rispetto del libero arbitrio il Signore ti offre il dono della divina volontà ti dà tempo per contemplarlo per innamorartene per decidere profondamente spontaneamente liberamente ma risolutamente di entrarci e una volta che guardando questo incanto si è cominciando a sentire felice amare di vivere questa vita e quindi fare di tutto per poterci entrare questo sarà il ripristino ecco chi lo desidera non ha che da cogliere al balzo questa palla offerta dalla Santissima Trinità iniziale questa splendida vita la prima benedizione a tutti alla prossima puntata ave maria grazie a tutti Grazie a tutti